Serie D, girone F, 18 le formazioni al via, un terzo sono abruzzesi. Per un posto al sole, chi vince il campionato volerà in Lega Pro. La prima giornata del girone sarà nel segno del derby. In campo, vastese Chieti, ghiotta ravvicinata replica, visto che le due squadre si incroceranno proprio all'Aragona in Coppa Italia domenica prossima, 18 agosto. Esordi casalinghi per le altre. L'Avezzano ospiterà il campo basso, il Pineto, il Termefiugi e il notaresco il Vasto Girardi, unica in trasferta il Giulianova a Porto Sant'Elpidio. Due derby abruzzesi nella seconda. Il primo coinvolge ancora il Chieti, che riceverà il Pineto. L'altro si giocherà il Fadini tra Giulianova e vastese. Per il resto, Avezzano e notaresco in trasferta, rispettivamente in casa della San Giustese e del Campobasso. Il campionato partirà domenica, primo settembre alle 15, con la prima giornata per arrivare il 3 maggio 2020 all'ultima di campionato. Il girone di andata terminerà il 22 dicembre, mentre quello di ritorno scatterà il 5 gennaio. Oltre alla sosta per le festività natalizie, la Serie D si fermerà anche il 15 marzo per gli impegni della rappresentativa di Mister Giannichetta alla Via Reggio Cup, mentre il 9 aprile saranno tutti a scendere in campo nel turno prepasquale. Per quel che riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 27 ottobre inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15.00 dal 29 marzo 2020. Dalla 10 maggio, quando inizierà la postseason, si passerà alle 16.00. Le favorite? A bocce ferme quello che si nota è la mancanza di un padrone dichiarato, per intenderci della Cesena dello scorso anno. Questo renderà il girone più incerto e combattuto. Gli addetti ai lavori inseriscono in prima fascia quattro squadre, Matelica, Campobasso, Reganatese e Pineto, ma aggiungiamo noi, le altre non staranno certo a guardare. Grazie. Grazie.